Speciale Polifemo dedicato alla protesta di Confcommercio Taranto dopo la manifestazione sulla rotonda del lungomare. Eccoci per il versante occidentale nella piazza 4 novembre di Ginosa. Ho al mio fianco il presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande. Una protesta che si espande giustamente nei comuni della provincia, un grido di dolore. Una protesta che si sostanzia di tre punti, la riapertura immediata, i ristori adeguati e una richiesta di moratoria alle banche per quanto riguarda i mutui. Dunque protesta e proposta. Sì, protesta e proposta. Intanto devo ringraziare tutte le persone che oggi stanno qui. Fatemi ringraziare i dirigenti anche da Taranto perché hanno fatto e fanno sentire la loro vicinanza al territorio. Perché noi siamo non un'associazione chiusa nel palazzo di vetro. Noi siamo un'associazione che va nei territori e questa è la testimonianza anche alla risposta di oggi. Lo faremo anche in altri luoghi perché la gente deve sentire a fianco l'istituzione Confcommercio che rappresenta, denuncia e sta a fianco a loro in tutta la loro difficoltà. Questa è la forza che un'organizzazione oggi deve mettere in campo. E abbiamo detto non solo la protesta. Noi abbiamo fatto anche le proposte. Le proposte devono essere quelle, come abbiamo detto, di aprire in sicurezza perché lo si può fare, visto le risorse che sono state spese per delle aziende. Perché è ovvio che se i contagi sono cresciuti non è per colpa delle aziende che ovviamente stanno chiusi. Allora facciamoli riaprire in sicurezza così abbiamo la possibilità e la serenità di controllare il sistema. Dall'altra parte chiediamo ovviamente un ristoro adeguato per quelle che sono le perdite effettuate e non una condizione di calcolo capestro che a questa gente gli diamo l'accontentino. Non gli possiamo dare un accontentino su delle somme importanti. Parlavo prima con un ristoratore che in un anno ha perso un milione di euro di fatturato. Cosa vuoi che quella persona tu gli possa dare? 3.700-4.000 euro. Signori c'è qualche cosa che non funziona. Parliamo di 300.000 imprese che hanno chiuso. Parliamo di 300.000 imprese in un anno e questa cosa ovviamente non può essere sottaciuta, deve essere rivendicata perché come ho già detto in tante circostanze, l'Italia è un paese fatto di piccole e medie imprese. La nostra forza sta nel tessuto dell'essere una peculiarità anche nel contesto mondiale. Perché voi ricordate anche tante immagini che hanno fatto vedere dell'Italia che è un paese dove noi abbiamo un sistema che va difeso e va difeso contro il mondo. Perché quando chiudono le attività e chiudono le attività storiche significa si perde un pezzo di una tradizione e di un sviluppo futuro di questa azienda. E poi la moratoria sulle banche. Le banche devono sedersi e aiutare tutti coloro i quali avevano dei mutui in corso e prolungarli quanto più possibile negli anni per dare la possibilità a questa gente di onorare l'impegno. Perché come dico questa gente oggi sta pagando conseguenze non di una cattiva gestione ma sta pagando le conseguenze di uno Stato che ha deciso di farli chiudere. E quindi Confcommercio rivendicherà la dignità di questa gente sempre e ovunque. Presidente, lei nel suo intervento ha fatto una similitudine, un paragone molto calzante. Ha detto se io faccio un incidente stradale e urto una macchina devo necessariamente risarcire il proprietario dell'altra macchina. Lo Stato dice alle attività commerciali chiudete però poi non mi dà ristori, non mi risarcisce. No, non risarcisce ma non solo. Poi li fa chiudere anche perché non solo non risarcisce ma li fa chiudere. Quindi quando chiudono queste aziende, signori, quando le famiglie, quando i genitori vanno a casa a guardare i propri figli e devono chiudere non perché il figlio gli dice papà ma perché stai chiudendo? Perché sei stato un incapace o perché qualcuno ti ha chiesto di chiudere o per te ha deciso che tu debba chiudere. E il padre o la madre gli risponderanno no perché hanno deciso di farmi chiudere. Ma quale messaggio noi lanciamo a questi figli, a questi ragazzi? È un messaggio devastante che lo Stato che dovrebbe tutelare, che il diritto al lavoro è il primo punto della nostra... Da uno Stato che dovrebbe essere madre a uno Stato che diventa matrigna. Perfetto, quindi a questo punto spiegare ai propri figli perché uno Stato ti sta facendo chiudere e non per tua incapacità sarà difficile ed è difficile. Per concludere il ruolo degli imprenditori perché dietro un imprenditore ci sono i dipendenti, oltre ad una storia ma ci sono dei dipendenti, ci sono delle famiglie e l'imprenditore è quello che pensa alla sua impresa, non ha un orario di lavoro, ci pensa 24 ore su 24 e ci sono imprenditori che davvero stanno impazzendo per il proprio futuro, per il futuro della propria famiglia e anche per il futuro dei dipendenti. Sì, ma perché come dicevo prima il nostro tessuto è fatto di micro, medie e piccole imprese, quindi il rapporto con i collaboratori è molto stretto, quindi c'è gente che si è rovinata per provare a mantenere i propri dipendenti perché si crea un legame di affetto, si crea un legame forte perché questi rapporti poi ovviamente non toccano solo la tua famiglia ma toccano anche le famiglie di questi ragazzi. Il tessuto sociale? Viene meno, bravo, il tessuto sociale e il rischio è anche sociale perché nessuno se lo deve dimenticare, poi quando arriva la disperazione c'è poco che questa gente qualcuno dica, ah ma fermatevi, ah non dobbiamo fare, ah fermatevi non dobbiamo fare le iniziative, la gente quando sta all'esasperazione. Prima l'implosione poi l'esplosione, non dobbiamo arrivare a tanto però il governo non metta le imprese e gli imprenditori in questa condizione di fare poi gesti come dire inconsulti e fuori dal senno. Sì ma in effetti noi, ecco perché Commercio si è messo a capo di questa protesta corretta, pacifica ma con forza denunciare quello che sta accadendo perché noi non vogliamo che si imploda e poi si sfoci in manifestazioni incontrollabili. In questo senso lo slogan, le regole, continuiamo a rispettare, il gilet non vorremmo indossare, cioè la richiesta al governo non metteteci nelle condizioni di esasperarci e di compiere atti conseguenziali. Questo in effetti è proprio questo il messaggio perché noi riteniamo che questa gente non deve essere portata all'esasperazione e non vorremmo arrivare a questo. Raffaele Vignola in rappresentanza di Conf Commercio Castellaneta, il territorio di Castellaneta offre immense risorse ma con queste restrizioni ovviamente gli operatori commerciali hanno come dire le ali tarpate. Un danno enorme, una chiusura, un voler soffocare il futuro di chi vuole fare impresa rispettando tutte le prescrizioni, questo è l'assurdo, prescrizioni che sono state imposte, per le quali sono stati spesi soldoni e poi all'improvviso le chiusure. Un ragionamento davvero folle e deleterio per l'economia locale. Sì, buongiorno, grazie a tutti quanti. Castellaneta come rappresentanza di Conf Commercio Taranto. Sì, abbiamo avuto come tutti i comuni, come tutta l'Italia queste chiusure soprattutto nel terziario dove comunque ci sono delle attività che possono tenere comunque la loro vita, la loro attività aperta rispettando le norme di sicurezza. Non si capisce perché aziende restano chiuse mentre altre aziende comunque continuano a stare aperte non rispettando magari le norme di sicurezza. Diciamo che purtroppo ci sono anche delle discriminazioni tra le categorie, tra i vari operatori commerciali, non vogliamo fare certamente la guerra tra poveri, tra virgolette, però ci sono dei settori che sono stati davvero dilaniati. Penso ai parrucchieri, agli estetisti, penso alle palestre, ma tante attività, i negozi di abbigliamento certamente. C'è una discriminazione, non vogliamo fare la guerra tra la grande distribuzione e il piccolo commercio, però certe disparità sono evidenti. Sì, in effetti, come diceva anche il Presidente Gian Grande, o si sta tutti chiusi o si sta tutti aperti. Si sta tutti chiusi comunque bisogna risarcire il danno di chi sta chiuso. Pensiamo ai negozi di abbigliamento che è arrivata la merce per la primavera che non potranno mai più venderla e che comunque devono pagarla perché comunque questa merce non la possono vendere l'anno prossimo o venderla nel periodo estivo. Quindi questo è un esempio, ma ci sono tanti altri esempi, come diceva lei, i parrucchieri, le palestre, tante attività che comunque sono chiuse e che potrebbero stare aperte rispettando le norme di sicurezza. Oggi si sta vedendo che c'è una chiusura di queste attività, di tutte queste imprese, dell'indotto che è chiuso, delle famiglie che comunque ormai il futuro non hanno più un futuro. Assolute incertezze. Assolute incertezze perché i dipendenti non sai se li devi tenere assonti, perché ci sono delle aziende che stanno addirittura facendo di tutto per mantenere i dipendenti. Però con quale prospettiva? Il futuro è incerto. Francesco Sant'Antonio in rappresentanza di Conf Commercio Ginosa. Emerge un senso di paura, figlio dell'incertezza che avviluppa gli imprenditori. Lo Stato non può dire chiudete e basta senza dare adeguati ristori. Esatto, proprio di questo stiamo parlando perché, ripeto, oggi siamo qui, c'è una grande rappresentanza e siamo fieri di questo perché io ho già vissuto questa manifestazione a Taranto e ho spinto fortemente per portarla anche qui nel versante occidentale. Perché parlando con tanti miei colleghi il problema è di tutti. Qua si sta parlando da oltre un anno di una, chiaramente, epidemia, però di uno schiacciamento del settore. Perché qui le attività sono tutte in crisi. Io parlo anche a nome di chi è totalmente chiuso perché ci sono attività che purtroppo sono interamente chiusi, come l'abbigliamento. E come ha detto anche il Presidente, giustamente, hanno fatto degli investimenti e quindi hanno avuto un danno. Quindi parliamo nei confronti di chi ci deve dare delle risposte e deve comunque sia rispondere a questo danno sostenuto. Perché se è pur vero che ci stanno togliendo il diritto di lavorare, ci devono togliere anche il dovere di pagare. Perché qui purtroppo serve un'esenzione. Una moratoria, diceva il Presidente Giangrande, anche con riferimento ai mutui e quindi con le banche. Perché ovviamente nel momento in cui l'economia è paralizzata non si può chiedere agli imprenditori di rispettare le scadenze. È una follia. Anche perché si sta parlando solo di rimandare i debiti. Non di annullarli. Il rimandare non porterà niente perché, come dice il Presidente, dietro ogni attività abbiamo le famiglie. Qui c'è gente che trascura le famiglie per mandare avanti le attività. Quindi non è giusto sopperire a questo discorso. Quindi chiediamo quello che pretendiamo. Il diritto di lavorare. Il diritto di lavorare. Angelo Melone in rappresentanza di Conf Commercio Massafra. Il Presidente Giangrande è stato molto chiaro. Apertura immediata, riapertura immediata, ristori adeguati perché questi non sono ristori. E poi una moratoria con riferimento alle banche per quanto riguarda i mutui. C'è la protesta ma anche la proposta in questa piazza. Sì, già la nostra protesta è una protesta pacifica. Non urliamo, però certe volte l'effetto, anzi spesso l'effetto dell'onurlare, parlare a bassa voce, arriva di più di quando si urla. Stiamo rispettando tutte le normative Covid, siamo tutti a distanza e comunque potremo essere molto di più. Anzi, siamo molto di più perché sui social siamo molto seguiti. Stamattina c'è una folta a rappresentanza di tutto il versante occidentale. Una bella risposta che fa il seguito alla manifestazione di mercoledì scorso sulla rotonda del lungomare di Taranto. Certamente questo è un seguito di quello che è stato l'inizio della manifestazione che abbiamo svolto a Taranto, sulla rotonda di Taranto. E saremo presenti con queste manifestazioni qua in tutta la provincia perché non c'è soltanto una città, un capologo che ne risente. Tutta la provincia, tutta la regione, tutta l'Italia, siamo in una situazione veramente incredibile. Ci manca tutto, ci manca la certezza, ci mancano i soldi. E da un anno che siamo in queste condizioni non ce la facciamo più. Ci sta mancando la dignità, come ho detto prima. È una cosa veramente assurda. Lo Stato deve ascoltarci, lo Stato deve essere presente. Non riusciamo più ad andare nelle banche perché occorre una moratoria a livello internazionale. Perché ovviamente le segnalazioni ci sono, c'è gente che non può pagare, per cui non potrà più avere la possibilità di entrare in banca. Quindi dobbiamo stare attenti anche ad altri settori dove per comprare i soldi bisogna andare da chi. Sappiamo benissimo dove... Dobbiamo andare a finire in mano agli usurai, allo strozzinaggio. E questo è un altro aspetto. Infatti proprio in questa situazione è proprio la criminalità che può, come dire, strozzare, prendere per la gola gli imprenditori disperati. In questo senso lo Stato deve fornire agli imprenditori garanzie per evitare che finiscano nel baratro dell'usura. Lo Stato, con l'ultima misura del registratore elettronico, abbiamo cambiato tutti i registratori, per cui altre spese. Benissimo, ok. Puoi controllare tutto. Sai le entrate e le uscite, sai il giro di affari. Quindi nel momento in cui il registratore è spento, è fermo da un anno, devi esattamente adeguare ciò che mi è mancato. Devi adeguare lo che devi dare tu. Devi garantire il tuo Stato. Questo è lo Stato garantista. Questo altrimenti non è uno Stato garantista. Paolo Giannico in rappresentanza di Conf Commercio La Terza. Il dramma di queste restrizioni, questo dramma che colpisce gli imprenditori, ma colpisce i dipendenti, colpisce le famiglie. In una sola parola, lo Stato italiano, il governo, con scelte a dir poco scelerate, sta mettendo l'economia in ginocchio. Certamente, io alla Terza ho una piccola rosticceria, in quale si vende carne, ma soprattutto si fa il servizio di cottura e di servirla nella stessa rosticceria. È da giugno che stiamo fermi e ancora oggi non è riconosciuto nessun indennizzo, prima con il codice attivo, adesso con altre scuse, però ora non abbiamo ottenuto nessun risturo su quello che noi abbiamo perso. È chiaro che il problema c'è, il Covid avanza, il Covid non si ferma, però visto che non si ferma, dobbiamo metterci nelle regole per poter convivere dignitosamente. È chiaro che, essendo merce deperibile la nostra, i danni sono doppi, perché se non vendi devi tenere l'assortimento, se non vendi pure la devi buttare, i danni sono maggiori. Allora hanno fatto bene quelli a chiudere in toto e almeno non hanno spese. Comunque l'Italia va rigenerata, vogliamo stare in Europa, però in altri paesi ci sono le regole, da noi gli indennizi non arrivano mai. Grazie. Un'altra delegazione, quella di Palagiano, di Confcommercio. Ci occupiamo di alcuni settori che sono stati davvero colpiti duramente, penso ai bar e penso al settore della ristorazione, quasi fossero degli untori. Poi vediamo che all'indomani, dopo molti giorni dalle chiusure, vediamo che il numero dei contagi aumenta sensibilmente, galoppa. Evidentemente, stante la chiusura, non erano certamente i bar e le attività di ristorazione la causa e questo lo dice la logica. Allora, iniziamo. Sì, salve, io sono Cristina Caponio, ho un bar a Palagiano, nella provincia di Taranto. Facciamo parte di quella cerchia ristretta della piccola e media impresa. Ci accorgiamo, la rabbia è tanta, perché nonostante la chiusura ormai da un anno, adesso si fa sentire, nonostante risparmi, nonostante tutto. E ci accorgiamo che comunque i numeri non scendono dei contagi, quindi il problema non sono i bar, il problema non sono i ristoranti. I problemi sono altri e che non sono stati individuati, evidentemente, né dal governo né dagli scienziati, dei presunti esperti. Quindi non capiamo perché questo accanimento nei confronti dei locali, nonostante la messa in sicurezza. Gli investimenti che avete fatto per ottemperare alle prescrizioni anti-Covid e sono soldoni che sono stati investiti. E accantonati, sì. Anche perché non parliamo del singolo proprietario, parliamo del dipendente, parliamo di tanti numeri di persone, dietro le quinte, diciamo. Che non vengono rispettati, non vengono tutelati e non riusciamo ad andare avanti, nonostante siamo comunque giovani imprenditori. Giovani imprenditori, diceva la vostra collega, abbiamo altri giovani imprenditori impegnati nel settore della ristorazione. Davvero, con questi provvedimenti scellerati, significa spezzare le ali a dei giovani che vogliono fare impresa, che vogliono lavorare loro e far lavorare altri. La ristorazione è un altro dei settori trattato come presunti unturi. Esatto, io mi chiamo Daegoro Nuzzi e lavoro al Crival di Palagiano. La mia domanda è questa. Perché ci è stato chiesto di fare un sacrificio che noi abbiamo fatto, ma non ha ottenuto i risultati sperati? A questo punto non sarebbe meglio farci riaprire con le dovute sicurezze che già abbiamo visto siamo stati in grado di fare? Perché date la colpa a noi se ci sono degli assembramenti in strada, quando si potrebbe controllare questo tipo di assembramento? Ridando la possibilità ai giovani di stare in una situazione a tutela, in sicurezza. Io mi chiedo anche perché quando noi paghiamo in ritardo, paghiamo con interessi e more. Perché quando voi ci ha chiedete un sacrificio, pagate in ritardo e pagate delle briciole? Non si può neanche dire quant'è perché veramente stiamo parlando di briciole. Io mi chiedo questo, state ammazzando la struttura di un settore che paga le tasse, che dà aiuto allo Stato per far funzionare tutti questi servizi? Ci avete chiesto un sacrificio, non è cambiato niente. Dateci la possibilità di aprire, di ripagare le tasse e lavorare come prima per aiutare anche la macchina dello Stato a far funzionare ciò che non si riesce a far funzionare. Un altro rappresentante di ConfCommercio a Palaggiano per quanto riguarda la ristorazione. Salve, io mi chiamo Tagarello Fortunato, un ristorante a Palaggiano, ho aperto da un anno, ho investito tanto, è difficile andare avanti adesso. Non ci hanno bloccato, non ci aiuta nessuno ed è veramente difficile. Speriamo che ci aiutano. Queste proteste, queste manifestazioni dovrebbero servire a questo, sperando che dall'altra parte si abbia la sensibilità di raccogliere il grido di dolore di imprenditori che fanno impresa, che danno lavoro e che urlano il sacrosanto diritto a lavorare. Non chiedete, la cosa significativa è che voi non state chiedendo le elemosine, non state chiedendo i sussidi, ma state dicendo almeno fateci lavorare, tutto qui. Con i distanziamenti, io ho un locale molto piccolo, 40 posti. Quindi con le entrate contingentate, che fastidio davate, questo non riesco a capire. Quando poi abbiamo i supermercati in cui si creano gli assembramenti, si creano gli assalti ai vari scaffali, perché se c'è l'olio in offerta, molte mani vanno a toccare quell'olio, quella bottiglia d'olio in offerta. Invece bar e ristoranti sono gli untori e devono morire, questa è la verità. Speriamo che le cose ritornino come prima e ci aiutano, veramente. Grazie. Matilde Contento, vicepresidente di Confcommercio Taranto, operatrice commerciale di Palagiano. Paura ed incertezza per il futuro a causa di scelte, a dir poco scriteriate, che risultano completamente distanti dalla realtà che gli imprenditori vivono ogni giorno. È molto facile da parte del governo tracciare una linea nera e dire chiudete, ma poi dietro queste chiusure ci sono imprenditori, ci sono dipendenti, ci sono famiglie. È una politica completamente distante dalla vita quotidiana, dalla realtà di tutti i giorni. Sicuramente. Dietro queste chiusure, come appunto diceva lei, c'è tanto dolore, ci sono tanti sacrifici e ormai c'è tanta stanchezza. Una situazione che va avanti da un anno, ma che fondamentalmente non ci ha portato a grandi risultati positivi, ci vede per forza manifestare in piazza per poter dire a chiara voce fateci riaprire, fate aprire le nostre attività, nelle nostre città, nei nostri comuni, fateci riaccendere le luci dei quartieri. Facciamo in modo comunque di rispettare tutte le prescrizioni e tutto quello che per la salute di tutti è giusto fare, però fateci riaprire. Vedete anche qui a Ginosa i sacchi di mondizia che rappresentano le varie promesse mancate, gli inganni che sono stati perpetrati nei confronti degli imprenditori, ma anche dei dipendenti e delle relative famiglie. Su ogni sacco c'è appunto un cartellone, c'è un'insegna, una scritta, un sacco di debiti, un sacco di decreti, un sacco di ingiustizie, un sacco di discriminazioni, un sacco di chiacchiere, un sacco di tragedie, un sacco di abusi, un sacco di perdite, un sacco di avvoltoi e potremmo così proseguire all'infinito, un sacco di umiliazioni, un sacco di speculazioni, un sacco di fallimenti, un sacco di prestiti. Chi più ne ha più ne metta. E questa è l'immagine del Paese reale di imprenditori che non hanno risposte dallo Stato, dal governo, uno Stato che anziché padre si è rivelato patrigno, non ascoltando almeno finora il grido di dolore degli imprenditori. E proseguirà e la seguiremo la campagna di protesta e di proposta di Confcommercio Taranto. Si è partiti dalla Rotonda del Lungomare, quest'oggi a Ginosa, in rappresentanza appunto del settore occidentale, ma i vari comuni della provincia ionica, i vari settori, i vari settori territoriali, riceveranno ovviamente queste manifestazioni, ci saranno lì in loco le manifestazioni di Confcommercio Taranto, proprio per urlare, il diritto degli imprenditori, il diritto di lavorare. Lo sottolineiamo, il diritto degli imprenditori, il diritto dei dipendenti. La Costituzione italiana sottolinea il diritto al lavoro, un diritto che evidentemente è stato calpestato, anzi è tuttora calpestato. Purtroppo usiamo il tempo presente, speriamo che il governo raccolga questa emergenza, queste doglianze, questo grido di disperazione.